Richard Marcone è pronto a difendere i pali dell'Avellino per la prossima stagione sportiva. Enzo De Vilto, il DS De Lupi, avrebbe scelto l'ex portiere di Trapani e Potenza per il dopo Francesco Forte. A confermare tutto ai nostri microfoni è l'agente del calciatore Fulvio Marrucco. Tra oggi e domani verrà complicato l'iter e si sta procedendo alla risoluzione del contratto a Potenza. Quindi possiamo dire che sarà il prossimo portiere dell'Avellino? Molto probabilmente sarà il prossimo portiere dell'Avellino. Fin quando le casse non vengono depositate non è mai nulla, certo. Nelle ultime due stagioni a Potenza dove l'ha accolto 49 presenze, Marcone è pronto adesso a rilanciarsi in Irpinia e magari a ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie di mister Roberto Taurino.